l'incubo ad aria condizionata buone nuove dio e amore o in un albergo di pittsburgh che termina il libro su rama krishna di roman roland pittsburgh e rama krishna è possibile un contrasto più violento l'uno il simbolo della forza brutale e della ricchezza l'altro la perfetta incarnazione dell'amore e della saggezza cominciamo qui dunque proprio al centro dell'incubo nel crogiuolo dove tutti i valori sono ridotti in scorie mi trovo in quella che si può considerare una comoda stanzetta di un albergo moderno dotato di tutti gli ultimi comfort il letto è pulito e soffice la doccia funziona perfettamente la ciambella del gabinetto è stata sterilizzata alla partenza dell'ultimo ospite se devo credere alla striscia di carta che l'inghirlanda sapone asciugamani lampade carta da lettere tutto è fornito in abbondanza sono depresso depresso oltre ogni limite se dovessi occupare questa stanza per qualche tempo diventerai matto o mi ucciderei lo spirito del posto lo spirito degli uomini che ne hanno fatto l'orrenda città che è filtrata dalle pareti c'è il delitto nell'aria mi soffoca pochi minuti fa sono andato a prendere una boccata d'aria mi sono ritrovato nella russia azzarista ho visto ivan il terribile seguito da un corteo di brutti musi a cavallo erano là armati di bastoni e rivoltelle avevano l'aria di uomini che obbediscono prontamente che sparano per uccidere alla minima provocazione lo status quo non mi è mai sembrato più orribile questo non è il luogo peggiore lo so ma io sono qui e ciò che vedo mi colpisce duramente forse sono stato fortunato a non cominciare il mio giro dell'america via pittsburg jungstown detroit fortunato a non visitare per prime bayonne bethlem scranton e altre località del genere sarei potuto non arrivare mai più lontano di chicago avrei potuto mutarmi in una bomba umana ed esplodere per un curioso istinto di autoconservazione ho puntato prima verso sud per esplorare con gli stati dell'unione che si dicono arretrati anche se per la maggior parte del viaggio mi sono annoiato almeno ho conosciuto la pace non ho visto miseria e sofferenza anche al sud certamente sì c'è miseria e sofferenza dovunque in tutta questa vasta terra ma ci sono varie qualità e vari gradi di sofferenza la peggiore a mio parere è quella che si incontra proprio nel cuore del progresso in questo momento parliamo della difesa del nostro paese delle nostre istituzioni del nostro sistema di vita si dà per scontato che debbano essere difese che siamo invasi o no ma ci sono cose che non dovrebbero essere difese che dovrebbero essere lasciate morire ci sono cose che dovremmo distruggere volontariamente con le nostre mani facciamo mentalmente una ricapitolazione cerchiamo di ripensare ai giorni in cui i nostri antenati sbarcarono per primi su questi lidi tanto per cominciare fuggivano da qualche cosa come gli esuli e gli espatriati che abbiamo l'abitudine di denigrare e avvilire anch'essi avevano abbandonato la madre patria in cerca di qualcosa che fosse più vicino alle loro aspirazioni un fatto curioso di questi nostri però genitori è che pur cercando apertamente la pace e la felicità la libertà politica e religiosa cominciarono a saccheggiare avvelenare assassinare a sterminare quasi la razza cui apparteneva a questo vasto continente più tardi quando scoppiò la febbre dell'oro fecero ai messicani quello che avevano fatto agli indiani e quando saltarono fuori i mormoni esercitarono la stessa crudeltà la stessa intolleranza e la stessa persecuzione sui propri fratelli bianchi penso a questi episodi odiosi perché mentre viaggiavo da pittsburg a jungstown attraverso un inferno che supera persino l'immaginazione di dante mi venne improvvisamente l'idea che avrei dovuto avere al fianco un indiano d'america che egli avrebbe dovuto fare questo viaggio insieme a me comunicarmi con il silenzio in altro modo le sue emozioni e riflessioni le mie preferenze sarebbero andate a un discendente di una delle tribù indiane notoriamente civilizzate un seminole diciamo che avesse passato la vita nelle intricate paludi della florida provate a immaginarci fermi tutti e due in contemplazione davanti all'orrida maestà di una di quelle acciaierie che punteggiano la linea ferroviaria posso quasi sentirlo pensare è per questo dunque che ci avete privato del nostro diritto di primo genitura ci avete portato via gli schiavi ci avete bruciato le case massacrato le donne e i bambini avvelenato l'anima infranto ogni trattato stipulato con noi e ci avete lasciato morire nelle paludi e nelle foreste delle everglades credete che sarebbe facile fargli accettare il posto di uno dei nostri operai quale metodo di persuasione usereste cosa potreste promettergli per convincerlo una macchina usata con la quale recarsi al lavoro una baracca di legno che potrebbe se fosse abbastanza ignorante chiamare casa un'istruzione per i suoi figli che gli strapperebbe al vizio all'ignoranza e alla superstizione ma li terrebbe ancora in schiavitù una vita sana pulita in mezzo alla miseria ai delitti al sudiciume alle malattie alla paura una paga che ti consente appena di tenere la testa fuori dall'acqua e spesso neanche questo la radio il telefono il cinema il giornale la rivista scandalistica la penna stilografica l'orologio da polso l'aspirapolvere o altre ciampusaglie ad infinitum sono queste le inizie che danno valore alla vita è questo che ci rende felici spensierati generosi comprensivi gentili pacifici simili a dio siamo dunque prosperi e sicuri come tanti sognano stupidamente di essere c'è qualcuno tra noi anche il più ricco e il più potente sicuro che un vento contrario non spazzerà via i suoi averi la sua autorità da paura o il rispetto in cui è tenuto questa frenetica attività che ci tiene tutti in pugno ricchi e poveri deboli e potenti dove ci porta ci sono due cose nella vita che mi sembra tutti gli uomini vogliono e pochissimi riescono mai a ottenere perché appartengono entrambi al dominio dello spirito e sono la salute e la libertà il farmacista il medico il chirurgo sono tutti impotenti a dare la salute denaro potere sicurezza autorità non danno la libertà istruzione non potrà mai fornire la saggezza nelle chiese la religione nella ricchezza la felicità nella sicurezza la pace qual è dunque il significato della nostra attività qual è il suo scopo noi siamo soltanto ignoranti superstiziosi viziosi nella nostra condotta quanto gli ignoranti selvaggi assetati di sangue che abbiamo spodestato e annientato al nostro arrivo qui siamo di gran lunga peggiori di loro siamo degenerati abbiamo degradato la vita che avevamo cercato di stabilire su questo continente la nazione che produce di più al mondo eppure incapace di nutrire vestire e dare adeguato riparo a più di un terzo della sua popolazione baste aree di terreno fertile che si trasformano in deserto per trascuratezza indifferenza ingordisa e vandalismo lacerati circa 80 anni fa dalla più sanguinosa guerra civile nella storia dell'uomo eppure incapaci fino ad oggi di convincere quella parte del nostro paese che è stata sconfitta dalla legittimità della nostra causa e incapaci come liberatori ed emancipatori degli schiavi di dare loro vera libertà e uguaglianza riduciamo invece in schiavitù e degradiamo i nostri fratelli bianchi sì il nord industriale ha sconfitto l'aristocratico sud i frutti di quella vittoria sono ora palesi ovunque esiste l'industria c'è bruttezza miseria oppressione tristezza e disperazione le banche che si arricchiscono impartendoci un ipocrito invito al risparmio allo scopo di laggirarci con i nostri soldi ora ci pregano di non portare là i loro risparmi minacciando di cancellare anche quel ridicolo interesse che ci offrono caso mai non tenessimo conto del loro consiglio tre quarti dell'oro esistente al mondo giacciono sepolti nel kentaki invenzioni che getterebbero sull'astrico altri milioni di persone poiché per la strana ironia del nostro sistema ogni vantaggio potenziale per la razza umana si converte in un male giacciono inutilizzate sugli scaffali dell'ufficio brevetti o sono acquistate e distrutte dalle forze che controllano il nostro destino la terra scarsamente popolata e impegnata nella rovinosa insensata produzione di enormi eccedenze di ogni sorta è ritenuta dai suoi proprietari che sono appena un pugno di uomini incapace di accogliere non solo gli affamati milioni di abitanti d'europa ma le nostre orde affamate un paese che ci copre di ridicolo vedendo missionari nelle parti più remote del globo chiedendo l'elemosina ai poveri allo scopo di mantenere l'opera cristiana di diavoli illusi che non rappresentano cristo più di quanto io rappresenti il papa eppure incapace attraverso le sue chiese e missioni in patria di salvare i deboli e gli sconfitti i miseri e gli oppressi ospedali manicomini prigioni piene da scoppiare regioni alcune delle quali grandi quanto una nazione europea praticamente disabitate possedute da un'intocchabile società i cui tentacoli arrivano ovunque e le cui responsabilità nessuno può formulare o chiarire un uomo seduto in una comoda poltrona new york chicago san francisco un uomo circondato da ogni lusso eppure paralizzato dalla paura e dall'ansia controlla le vite e destini di migliaia di uomini e donne che non ha mai visto che non desidera vedere e il cui fatto dipende interamente da lui questo è ciò che si chiama progresso nell'anno 1941 in questi stati uniti d'america poiché non sono di origine indiana nera o messicana non trago alcun piacere vendicativo nell'abbozzare questo quadro della civiltà dell'uomo bianco discendo da due uomini che abbandonarono la loro terra natia perché non volevano fare il soldato i miei discendenti per colmo d'ironia non potranno più sfuggire a questo dovere l'intero mondo bianco è stato ormai trasformato in un campo di battaglia come dicevo dunque alla partenza da pittsburg ero pieno di ramakrishna ramakrishna che non criticava mai che non faceva mai prediche che accettava tutte le religioni che vedeva dio ovunque in ogni cosa l'essere più estatico credo che sia mai vissuto poi vennero curaopolis all'equipa van pum poi niels il luogo di nascita del presidente mckinley e warren il luogo di nascita di kennedy pachen poi jungstown e due ragazze scendono la scarpata dalla ferrovia nella cornice più fantastica che abbia avuto occasione di vedere da quando ho lasciato creta torno di colpo su quell'antica isola greca ritto ai margini di una folla alla periferia di eracleon a pochi chilometri da knosso non c'è ferrovia sull'isola legge né cattiva la polvere è fitta le mosche sono dappertutto il cibo è schifoso ma è un posto meraviglioso uno dei posti più belli del mondo come a jungstown presso la stazione ferroviaria anche qui c'è una scarpata e una contadina greca scende lentamente con una cesta sul capo i piedi nudi il corpo equilibrato la rassomiglianza finisce qui come tutti sanno l'ohaio ha dato al paese più presidenti di qualsiasi altro stato dell'unione presidente come mckinley hayes garfield grant harding uomini deboli senza carattere ci ha dato anche scrittori come sherwood anderson e kennedy pachen l'uno sempre e ovunque in cerca della poesia e l'altro spinto quasi alla pazzia dal male e dalla bruttezza di ogni luogo l'uno cammina per le strade la sera in solitudine e ci narra la vita immaginaria che si svolge dietro porte chiuse l'altro è così preso dal dolore e dall'angoscia di ciò che vede da ricreare il cosmo in termini di lacrime e sangue da capovolgerlo e camminarci sopra pieno di schifo e disgusto sono lieto di aver avuto l'occasione di vedere queste città dell'ohaio questo fiume maoning in cui si direbbe sia stata versata la bile velenosa di tutta l'umanità per quanto in realtà non possa contenere più male dei prodotti chimici e dei rifiuti delle fabbriche sono lieto di avere avuto l'occasione di vedere il colore della terra qui d'inverno un colore non di vecchiaia e di morte ma di malattia e dolore lieto di aver potuto osservare la pelle di rinoceronte delle rive che sorgono dall'acqua e nella pallida luce di un pomeriggio d'inverno riflettono la follia di un pianeta abbandonato all'odio e alli contese dietro di aver dato un'occhiata a quei mucchi di scorie che somigliano accumuli di escrementi di mostri preistorici malaticci passati nella notte mi aiuta a comprendere la nera e mostruosa poesia che il più giovane distilla per conservare il proprio equilibrio mentale mi aiuta a comprendere perché lo scrittore più vecchio dovette simulare la pazzia per sfuggire alla prigione in cui si trovò quando lavorava nella fabbrica di vernice mi aiuta a comprendere come la prosperità costruita a questo livello di vita possa fare dell'ohaio la patria dei presidenti e il persecutore degli uomini di genio la vista più triste di tutte è quella delle automobili parcheggiate davanti alle fabbriche l'automobile spicca nella mia mente come il perfetto simbolo della falsità e dell'illusione eccole là migliaia in tale profusione che si direbbe che nessun uomo sia troppo povero per possederne una in europa in asia in africa le travagliate masse dell'umanità guardano con l'acquolina in bocca a questo paradiso dove l'operaio va al lavoro in automobile che mondo di magnifiche occasioni deve essere mormorano tra sé almeno a noi piace credere che lo pensino così non si chiedono mai che cosa occorre fare per godere di questo grande privilegio non si rendono conto che quando il lavoratore americano smonta dal suo lucente cocchio di latta si consegna anima e corpo alla fatica più inconcludente che un uomo possa compiere non pensano che anche quando si lavora nelle migliori condizioni possibili si possono perdere tutti i diritti di un essere umano non sanno che le migliori condizioni possibili nel gergo americano significano i più alti profitti per il padrone la massima schiavitù per l'operaio la più grande confusione e delusione per il pubblico in generale vedono una bella macchina lucente che fa le fusa come un gatto vedono interminabili strade di cemento così lisce e perfette che il guidatore stenta a restare sveglio vedono cinematografi che sembrano palazzi vedono grandi magazzini con manichini vestiti come principesse vedono il lustro e la vernice le cianfrusaglie le macchinette le comodità non vedono l'amarezza in cuore lo scetticismo il cinismo il vuoto la sterilità la disperazione la sfiducia che divora il lavoratore americano questo non vogliono vederlo hanno già abbastanza guai per conto loro vogliono una via d'uscita vogliono i letali confort le comodità i lussi e seguono le nostre orme ciecamente balordamente avventatamente certo non tutti gli operai americani vanno al lavoro in automobile abu fort nel south carolina solo poche settimane fa vide un uomo su un biroccio a due ruote che conduceva un torello lungo la strada principale era un nero sì ma dall'espressione del suo viso sono pronto a scommettere che stava assai meglio del povero diavolo dell'acciaieria che guida la sua macchina nel tenessì ho visto dei bianchi faticare come bestia da soma li ho visti lottare disperatamente per strappare al magro suolo della montagna quanto basta per vivere ho visto le baracche in cui abitavano e mi sono chiesto se era possibile mettere insieme qualcosa di più primitivo ma non posso dire di avere provato pietà per loro no non è gente che ispiri pietà quella al contrario è da ammirare se rappresentano la popolazione arretrata d'america allora abbiamo bisogno di altra gente arretrata nella sotterranea new york nella sotterranea new york puoi vedere l'altro tipo quello drogato dai giornali che va matto per le teorie sociali e politiche fa la vita dello schiavo stupidamente lusingandosi che poiché non lavora con le mani e neppure con il cervello sa è per questo sta assai meglio dei poveri rifiuti bianchi del sud quelle due ragazze di youngstown che scendevano lungo la scarpata sdrucciolevole fu come un brutto sogno ve lo dico io ma noi guardiamo questi brutti sogni sempre a occhi aperti e quando qualcuno ce lo fa notare diciamo sì è vero è così e torniamo ai nostri affari o prendiamo la droga la droga che è di gran lunga peggiore dell'oppio della sciss vale a dire i giornali la radio il cinema la vera droga ti dà la libertà di sognare i tuoi sogni quella americana ti costringe a inghiottire i sogni perversi di uomini la cui sola ambizione è conservare il proprio posto senza riguardo per ciò che gli si chiede di fare la cosa più tremenda dell'america è che non c'è scampo alla macina da mulino che abbiamo creato non c'è un solo intrepido campione della verità nel mondo editoriale né una società di produzione cinematografica dedita all'arte anziché ai profitti non abbiamo un teatro degno di questo nome e quel po di teatro che abbiamo è praticamente concentrato in una sola città non abbiamo musica degna dimensione tolta quella che ci hanno dato i neri e gli scrittori che si possano dire creativi si contano sulle dita di una mano gli affreschi che decorano i nostri edifici pubblici sono più o meno sul livello di sviluppo estetico degli studenti di scuola superiore e talvolta per concezione ed esecuzione anche al di sotto abbiamo musei d'arte che per la maggior parte sono zeppi di robaccia priva di vita nelle nostre pubbliche piazze abbiamo monumenti ai caduti che devono far fremere nella tomba i morti in nome dei quali sono stati eretti abbiamo un gusto architettonico che non potrebbe essere più vicino al punto di fuga nelle 10.000 miglia che ho percorso fin qui ho incontrato due città ciascuna delle quali ha una piccola zona degna di una seconda occhiata charleston e new orleans quanto alle metropoli città e villaggi che ho attraversato spero di non rivederle mai più per giunta alcune di esse hanno nomi così meravigliosi da rendere più crudele l'inganno nomi come satanuga pensacola tallasi come mantua febus bethlem paoli come algerì mobil nashas savanna come baton rouge savagny bug skipsi nomi che ridestano gloriosi ricordi del passato suscitano sogni del futuro andate a visitarle vi dico controllate di persona provate a pensare a schubert o a shakespeare quando siete a febus in virginia provate a pensare al nord africa quando siete ad algerì nella lusitania quando siete su un lago su un monte o su un fiume che portano nomi presi in prestito da loro provate a pensare alla vita che vi conducevano gli indiani provate a pensare ai sogni degli spagnoli mentre viaggiate in un'automobile lungo old spanish trail fate quattro passi nel vecchio quartiere francese di new york leans e cercate di ricostruire la vita che conobbe una volta questa città sono trascorsi meno di cent'anni da quando questa perla d'america ha perso ogni fulgore si direbbe che ne siano passati mille tutto quello che c'è la di bello di significativo di promettente è stato distrutto e sepolto dalla valanga del falso progresso in mille anni di guerra quasi ininterrotta l'europa non ha perso ciò che abbiamo perduto noi in cent'anni di pace e progresso nessun nemico straniero ha rovinato il sud nessun vandalo barbarico ha devastato le ampie pianure che sono aride e desolate come la morta superficie della luna non possiamo incolpare gli indiani della trasformazione di un'isola pacifica e sonno lenta come manattan nella più orrenda città del mondo non possiamo attribuire il crollo del nostro sistema economico alle orde di immigrati pacifici e industriosi che non vogliamo più no le nazioni europee possono accusarsi l'un l'altra delle loro miserie ma noi non abbiamo nessuna scusa la colpa se la dobbiamo tenere meno di 200 anni fa ebbe inizio in questo continente vergine un grande esperimento sociale gli indiani che spossessammo decimammo e riducemmo nella condizione di esiliati proprio come fecero gli ariani con i dravidici dell'india avevano verso la terra un atteggiamento riverente le foreste erano intatte il suolo fertile e ricco essi vivevano in comunione con la natura a quello che possiamo chiamare un basso livello di vita pur non possedendo una lingua scritta erano d'animo poetico e profondamente religiosi quando giunsero i nostri antenati cercando scampo dai loro oppressori cominciarono ad avvelenare gli indiani con l'alcol e le malattie venere a violentare le loro donne ad assassinare i loro figli si fecero beffe e scorno dell'antica sciaggezza che ispirava la vita degli indiani quando ebbero finalmente portato a termine la loro opera di conquista e di sterminio ammucchiarono in campi di concentramento in miseri resti di una grande razza e si accinsero a affiaccare quel po' di spirito che restava loro non molto tempo fa ne accade di attraversare una minuscola riserva indiana appartenente ai Cherokee sui monti del nord carolina il contrasto tra questo mondo e il nostro è quasi incredibile la piccola riserva dei Cherokee è virtualmente un paradiso una gran pace e un gran silenzio pervadono la terra dando al visitatore l'impressione di trovarsi finalmente nel felice terreno di caccia dove va dopo la morte l'indiano coraggioso fin qui nel corso del mio viaggio mi sono imbattuto solo in un'altra comunità che aveva qualcosa di simile a quell'atmosfera e ciò avvenne nella contea di Lancaster in Pennsylvania tra i membri della comunità degli Amish qui un piccolo gruppo religioso tenacemente attaccato ai modi dei loro antenati nella maniera di vivere di vestire nelle credenze nei costumi ha trasformato la terra in un vero giardino di pace e di abbondanza si dice di loro che da quando si sono stabiliti qui non hanno mai perso un raccolto fanno una vita che è in netto contrasto con quella della maggioranza della popolazione americana e il risultato è quanto mai evidente solo a poche miglia di distanza si trovano le voragini infernali dell'america dove come per provare al mondo che idee e teorie o ismi stranieri mai riusciranno a prendere piede qui la bandiera americana sventola sfacciatamente e sarcasticamente da tetti e ciminiere e che bandiere malinconiche espongono gli arroganti fanatici padroni di questi impianti pensereste che un così fervido patriottismo dovrebbe male accordarsi con l'esposizione di un emblema lacero annerito sfrangiato dalle intemperie pensereste che dagli enormi profitti accumulati si potrebbe tirare fuori abbastanza da comprare un nuovo fulgido scintillante emblema di libertà ma no nel mondo dell'industria tutto è insozzato degradato vi ripeso tanto che oggi quando vedi la bandiera sventolare fieramente da qualche parte senti puzzo di bruciato la bandiera è diventata un mantello per celare l'iniquità abbiamo sempre due bandiere americane una per i ricchi e una per i poveri quando sventola la prima vuol dire che le cose sono sotto controllo quando sventola la seconda vuol dire pericolo rivoluzione anarchia in meno di 200 anni la terra della libertà la patria degli uomini liberi il rifugio degli oppressi ha modificato tal punto il significato delle stelle e strisce che oggi quando un uomo una donna riescono a scampare agli orrori d'europa quando finalmente sono in piedi davanti alla sbarra sotto il nostro glorioso emblema nazionale la prima domanda che si pone loro è quanti soldi hai se non hai soldi ma solo l'amore per la libertà solo una preghiera di misericordia sulle labbra era spinto rispedito al mattatoio evitato come un lebroso questa è l'amara caricatura che i discendenti dei nostri progenitori amanti della libertà hanno fatto del nostro emblema nazionale tutto è caricaturale prendo un aereo per vedere mio padre sul letto di morte e lassù tra le nubi in una furiosa tempesta sento due uomini alle mie spalle discutere sul modo di concludere un grosso affare un grosso affare di scatole di cartone niente di meno la hostess che è stata addestrata a comportarsi come una madre un'infermiera un amante una cuoca una schiava a non essere mai in disordine a non perdere mai l'onda dei capelli a non mostrare mai un segno di stanchezza o di delusione di angoscia o di solitudine la hostess posa la mano bianca come un giglio sulla fronte di uno dei rappresentanti di scatole di cartone e con la voce di un angelo custode dice è stanco questa sera ha mal di testa vuole un po di aspirina siamo su tra le nubi e lei esegue il suo numero come una foca ammaestrata quando l'aereo ha un sobbalzo cade mostrando un paio di cosce tentatrici ora i due rappresentanti stanno parlando di bottoni dove acquistarli a buon mercato come rivenderli a un alto prezzo un altro uno stanco banchiere sta leggendo le notizie della guerra c'è un grande sciopero in atto da qualche parte parecchi anzi costruiranno una flotta di navi mercantili per aiutare l'inghilterra il prossimo dicembre la tempesta in furia la ragazza cade un'altra volta è piena di segni blu e neri ma si accosta sorridendo dispensando caffè e gomma da masticare posando la mano bianca come un giglio sulla fronte di qualcun altro informandosi se è un po giù forse un po stanco le chiedo se le piace il suo lavoro per tutta risposta dice è meglio che fare l'infermiera diplomata i rappresentanti la stanno esaminando parlano di lei come di una merce loro comprano e comprano e vendono per questo devono avere le stanze migliori nei migliori alberghi gli aerei più veloci e più comodi i sopraviti più pesanti e più caldi i portafogli più grossi e più pingui abbiamo bisogno delle loro scatole di cartone dei loro bottoni delle loro pellicce sintetiche dei loro articoli di gomma delle loro calze dei loro prodotti in plastica abbiamo bisogno del banchiere del suo genio nell'alleggerirsi le tasche e arricchirsi l'assicuratore le sue pollizze le sue chiacchiere sulla sicurezza e sui dividendi abbiamo bisogno anche di lui ma è vero non vedo perché si debba avere bisogno di questi avvoltoi non vedo perché si debba avere bisogno di queste città di queste voragini infernali in cui sono entrato credo che non si abbia bisogno neppure di una flotta bioceanica poche sere fa ero a detroit al cinema ho visto la linea mannerheim ho imparato la lezione e voi ditemi che cosa può costruire l'uomo per difendersi che altri uomini non possano distruggere che cosa stiamo cercando di difendere solo ciò che è vecchio inutile morto indifendibile ogni difesa è un invito all'attacco perché non arrendersi perché non dare dare tutto è così maledettamente pratico così totalmente efficace e disarmante eccoci qua il popolo degli stati uniti il più grande popolo della terra così crediamo abbiamo tutto tutto ciò che occorre per fare felice la gente abbiamo terra acqua cielo e tutto il resto potremmo diventare il più luminoso esempio della terra potremmo irradiare pace gioia forza benevolenza ma siamo infestati dai fantasmi fantasmi sui quali non sembra che riusciamo a mettere le mani non siamo felici né soddisfatti né raggianti né intrepidi facciamo miracoli e sediamo su nel cielo a prendere l'aspirina e a parlare di scatole di cartone dall'altra parte dell'oceano siedono su nel cielo a discutere indiscriminatamente di morte e distruzione noi non lo facciamo ancora non ancora ma abbiamo il dovere di fornire i citati strumenti di distruzione a volte nella nostra avidità li forniamo dalla parte sbagliata ma questo è niente andrà tutto a finire bene avremo finalmente contribuito a spazzar via o a prostrare una buona parte della razza umana non selvaggi stavolta ma barbari civilizzati uomini come noi in breve con la differenza che hanno idee diverse sull'universo diversi principi ideologici come diciamo noi naturalmente se non li distruggiamo loro distruggeranno noi è logico e non c'è niente da obiettare è la logica della politica ed è di questo che si vive e si muore una situazione davvero fiorente una cosa emozionante sapete viviamo in tempi così emozionanti non siete contenti il mondo che cambia così in fretta e tutto il resto non è meraviglioso pensate a com'era cent'anni fa il tempo passa un uomo di genio che conosco vorrebbe che gli fosse risparmiata la prova di indiscriminate uccisioni cui stanno per sottoporlo non gli interessa rimettere in sesto il mondo gli interessa mettere i suoi pensieri sulla carta ma poi ha una buona dentatura non ha i piedi piatti cuore e polmoni sono in perfetto ordine non soffre di disturbi nervosi è sano come un pesce ed è un genio per giunta non parla mai di scatole di cartone o di bottoni o di invenzioni nuovissime parla di poesia parla di dio ma non appartiene a nessuna setta religiosa e perciò non può essere considerato un obiettore di coscienza la risposta è che deve prepararsi per essere spedito al fronte deve difendere i nostri principi ideologici il banchiere è troppo vecchio per andare sotto le armi i rappresentanti di cui parlavo sono troppo furbi così il genio deve fare il soldato anche se con la penulia che c'è dio sa se non sarebbe il caso di risparmiarne uno ogni tanto spero che walt disney sia esentato perché l'uomo per quanto io dubiti che se ne renda conto adatto a illustrare ciò che ho da dire in effetti l'ha sempre fatto senza saperlo è il maestro dell'incubo è il gustave torret del mondo di harry ford c la linea mannerheim non è che un graffio sulla superficie vero la temperatura non era normale una media di circa 40 gradi sotto zero è incredibile come gli uomini possano essere addestrati a uccidere con qualunque tempo sono intelligenti quasi quanto i cavalli ma come dicevo disney ha ogni genere di temperatura una temperatura per ogni orrore appena sfornato non ha bisogno di pensare ci sono sempre i giornali a portata di mano naturalmente non sono veri uomini e donne oh no sono più veri delle donne degli uomini veri sono creature di sogno ci dicono che aspetto abbiamo sotto il rivestimento della carne un mondo affascinante no davvero se ci pensate è ancor più affascinante degli spumoni di dalì dalì pensa troppo inoltre ha solo due mani disney ne ha un milione e oltre alle mani ha le voci la voce della iena la voce del somarello la voce del dinosauro il film sovietico per esempio è abbastanza intimidatorio va lento massiccio pesante poco maneggevole ci vuole tempo nella vita reale per demolire tutti quei fortini di cemento per tagliare tutto quel filo spinato per uccidere tutti quei soldati per bruciare tutti quei villaggi un lavoro lento disney è svelto come un lampo ben lubrificato è così che opereremo tutti presto i nostri sogni diventeranno realtà presto impareremo il trucco impareremo ad annientare l'intero pianeta in un batter d'occhio aspettate e vedrete la capitale del nuovo pianeta quello cioè che si distruggerà da sé è naturalmente detroit l'ho capito nell'attimo in cui ci ho messo piede da prima pensavo di andare a trovare henry ford per fargli le mie congratulazioni ma poi mi sono detto a che scopo non capirebbe le mie parole e con tutta probabilità non le capirebbe neppure il signor cameron quella adorabile ford evening tour ogni volta che la sento annunciare penso a selene a ferdinand come si chiama tanto affettuosamente lui sì penso a selene in piedi davanti ai cancelli della fabbrica troverà lavoro certo lo trova infatti riceve il battesimo il battesimo dell'abbruttimento attraverso il rumore per alcune pagine vi canta una meravigliosa canzone sulla macchina le grazie che sparge sull'umanità poi incontra molly molly non è che una puttana troverete un'altra molly nell'ulisse ma molly la puttana di detroit molto meglio molly ha un'anima molly è il latte dell'umana bontà selene tributa il suo omaggio alla fine del capitolo è notevole perché tutti gli altri personaggi ricevono il fatto loro in un modo o nell'altro molly viene risparmiata molly lo crediate o meno spicca più grande e più santa dell'enorme impresa del signor ford sì è stata la cosa più bella e sorprendente del capitolo di selene su detroit far trovare il corpo di una puttana sull'anima della macchina non sospettereste mai l'esistenza di una cosa come l'anima se vi recaste a detroit tutto è nuovo troppo liscio troppo brillante troppo spietato le anime non crescono nelle fabbriche le anime vengono uccise nelle fabbriche anche le più sordide detroit può fare in una settimana per l'uomo bianco ciò che il sud non è riuscito a fare per il nero in cent'anni ecco perché mi piace la ford evening hur così carezzevole così ispiratrice grazie